buongiorno da obiettivo news oggi primo maggio è san giuseppe lavoratore il primo maggio in tutto il mondo i quali si riempiono di gratitudine e celebrazione in onore dei lavoratori di ogni settore la festa del lavoro anche conosciuta come festa dei lavoratori o my day è un momento speciale in cui riflettiamo sul valore inestimabile del lavoro dell'impegno umano è un'occasione per esaltare le conquiste di operai e delle operaie i successi delle organizzazioni sindacali e la lotta storica per i diritti dei lavoratori la festa del lavoro rappresenta non solo un giorno di riposo ben meritato ma anche una pietra miliare nella storia del movimento operaio la sua origine risale al tardo diciannovesimo secolo quando le masse lavoratrici si unirono per rivendicare condizioni di lavoro più dignitose orari più equi e una remunerazione giusta il movimento si è diffuso rapidamente in tutto il mondo portando importanti riforme sociali e una maggiore consapevolezza dei diritti dei lavoratori è anche un momento per esaminare le sfide contemporanee che il mondo del lavoro affronta e per sostenere la lotta per una maggiore equità ugualianza e sicurezza sul posto di lavoro oggi è anche la giornata nazionale delle fave e la giornata internazionale del parfait al cioccolato tra i nati in questo giorno abbiamo robie facchinetti 1944 e violante pacido 1976 tra i scomparsi ricordiamo arton senna 1994 sanitario 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 sanitar